Sono Stefania Marquez, lavoro in un'azienda Vertige, lavoriamo con le piante vive e stabilizzate. Questo quadro è un prototipo che abbiamo fatto in occasione di questo evento per fusionare un po' tutte le nostre lavorazioni. È un pannello vegetale, dal solito realizziamo parete giardine verticale, parete idroponiche, ma all'individuo individuale è complicato fuggitarci e averlo in uno spazio di una città privata. Abbiamo realizzato questo quadro in modo di avere un supporto leggero, portatile e adeguato, versatile per adattarsi a tutti gli ambienti. Qui abbiamo un quadro che è costituito da un supporto in legno ricoperto di microcimento nel quale abbiamo realizzato questo pannello idroponico dove le piante sono messe in delle tasche, è un sistema di irrigazione integrato che permette di autoalimentare questo pannello e gestire la parete viva. Si può attaccare o direttamente a un robinetto e a un scardio d'acqua o lo possiamo adattare con una vasca d'acqua che farà il reciclo dell'acqua e abbiamo sentito chiuso. In funzione dell'ambiente dove lo riceviamo lo possiamo mettere in opera, le piatture possono corrispondere anche a altre lavorazioni in funzione del gusto dell'ambiente. Questo è il lavoro che faccio come artigiana e vegetale.